Musica Ciao a tutti, io sono Gianni e benvenuti sul mio canale Oggi abbiamo un Winter Tag E' una vita che non faccio i tag I tag, i tag Chiamateli come vi pare Oggi farò questo tag Mi sono scritta tre cose Prima, tre articoli che usi di più di inverno Allora Ve ne farò vedere due Perché è così che uso più Allora, ultimamente uso tantissimo questa felpa Questa maglietta, guardate che bella C'è scritto Feminist Il bello arriva qui Perché queste qua si stringono E ti fa un vittino da vespetta, proprio boom E' proprio, proprio carino Cioè, te fascia bene Fa una bella vita E il secondo che ho adorato questi giorni Sono questi pantaloni Che c'hanno una parte qua, che c'è una parte qua Non carica il telefono Ok, dove è il foglio Ho perso il foglio Allora Tre prodotti di Skinning Skinning Ho più di uno Però ci tenevo a farveli vedere E quindi Parliamo di Shampoo balsamo Della Moroccan Oil Raga, costa un pochino Però Sono dei prodotti fantastici C'è anche l'olio Che fa i capelli Wow Raga Cioè, questi prodotti meriterebbero il premio Nobel Perché mi sento Prima di tutto Nutrono i capelli fantasticamente Poi Io ho i capelli massacrati Infatti oggi vado a tagliare Però questo shampoo Non me li lascia più secchi Sono morbidi Durano di più Mi piacciono Sono fantastici Poi un altro Altri due prodotti Che voglio farvi vedere È l'aloe vera E l'olio di ricino L'olio di ricino Insieme all'aloe vera Me la metto sul viso la sera E sulle ciglia Per aiutare la crescita E a volte mi faccio la maschera Per i capelli Di olio di ricino E quindi Idrata la pelle Sento le rughe un po' più Pullite Più stirate Adoro Mi piace Mi piace Mi piace Prima domanda Che scarpe usi Questo inverno Ho sempre usato Queste scarpe Le adoro Perché Mi fanno Più alta Perché sono una nana E poi però Sto comoda Quindi Pantalone Coppelle Feminist Mi sento Come Una Una Comunista Comunque Passiamo la prossima domanda Allora Accessorio preferito E questa borsa E questa borsa che Adoro È di prima donna È piccoletta Però è troppo Spenziosa Troppo carina Adoro Poi per me Rosso è Inverno E Mi piace Troppo Smalto preferito Smalto preferito È questo Che è un smalto Della L'Oreal È il 550 Rouge È fantastico Ce l'ho anche adesso Sulle mie unghiette Rosso Inverno È rosso Cioccolato caldo Succo di mela A me piace anche Il succo di mela La cioccolata Non la posso mangiare Quindi preferirei Il succo di mela Però adesso Ho trovato anche La cioccolata Calda Senza zucchero Della Fabri Quindi Direi cioccolato La candela preferita La mia candela preferita È quella All'odore Al profumo Di vaniglia Snowboard O sci Direi sci Perché sul snowboard Penso che andrei A faccia a terra Immediatamente Sei stata mai A patinare Sei capace Sì Sono stata A patinare Sono cascata Continuamente Quindi no Non sono capace A patinare Nevica Dove abitù Purtroppo Non nevica Hai fatto Il pupazzo di neve Purtroppo Non lo posso fare Festeggi il Natale Sì Adoro Natale Dovrebbe durare Tre mesi Il Natale La canzone preferita La mia canzone preferita Forever 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 È questa Adoro 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 La canzone più bella di sempre I brividi Ogni volta che la sento Film preferito A Natale Penso Home Alone Solo a casa Il primo Forse mi è piaciuto di più Qualcosa di dolce Da mangiare Il moreto Con la ricetta Della mia ex Suocera Che Da paura Adoro Adoro Ho anche il video Se lo cercate Vedete la ricetta Cosa chiederesti A Babbo Natale Se potessi chiedergli Un solo Esprimere un solo Desiderio Che si potrebbe realizzare Beh L'unica cosa Che gli chiederei Chiederei Di far camminare Il mio figlio Andiamo avanti Che piani Hai per questo inverno Questo inverno Niente Raga Palestra Alimentazione sana Aiutare tante persone A dimagrire A vivere più sano Voglio Voglio Mandare queste Queste cose Positive Di una vita sana A tutti A chi mandi Questo tag Le mando Alle malefiche Mary Glitter Maria Teresa E Mary Trovate il link Delle ragazze Dall'info box Quindi andate a vedere Anche il loro video Se lo faranno Se no Andate a vedere Il loro canale Uguale E Basta È finito Seguitemi su Instagram Parmigiamo Insieme Parmigiamo Insieme Ciao